L'ultima follia. La matematica diventa un'opinione. Il movimento antirazzista americano punta a cancellare la matematica per agevolare i bambini che appartengono alle minoranze nere ed ispaniche. Di Luca Volontè. La matematica è diventata un'opinione. Questa la nuova trovata revisionista del movimento antirazzista americano, che volendo eliminare ogni possibile retaggio con la storia, ora punta a cancellare la razzista e bianca matematica. I paradossi? Non solo la rivoluzione è profumatamente pagata con le donazioni del bianco Bill Gates, ma i bambini asiatici sono molto più bravi dei bianchi nelle materie matematiche. Si diffone negli USA la matematica antirazzista grazie al programma educativo Pathway e la sua attenzione all'insegnamento matematico antirazzista per gli alunni dagli 11 ai 13 anni. Si legge nella guida che il percorso offre risorse che gli educatori possono utilizzare mentre pianificano il loro curriculum, offrendo anche opportunità per una continua autoriflessione mentre cercano di sviluppare una pratica matematica antirazzista. La prima guida, Dismantelling Racism in Mathematics Instruction, chiede agli insegnanti di osservare come la matematica sia usata per sostenere visioni capitaliste, imperialiste e razziste. I fogli di lavoro, inclusi nel toolkit, chiedono agli insegnanti di creare una lista di qualità antirazziste da coltivare durante l'anno. A novembre di ogni anno, gli educatori devono riflettere su come includono autenticamente le minoranze e gli studenti multilingue nelle lezioni di matematica. A maggio, gli insegnanti valuteranno come smantellare le strutture di potere in classe. Il percorso matematico si trova in cinque guide progettate per aiutare gli insegnanti di matematica della scuola media. 1. Smantellare il razzismo nell'istruzione della matematica. 2. Promuovere la comprensione profonda. 3. Creare le condizioni per prosperare. 4. Collegare le intersezioni critiche. 5. Sostenere una pratica equa. I professori non dovranno correggere con la matita rossa gli errori, bensì onorare gli studenti che sbaglieranno nella risoluzione dei problemi. Valorizzare anche i percorsi logici errati. Identificare le pratiche di supremazia bianca all'interno delle classi. Evitare di richiamare l'attenzione per ottenere le risposte giuste o richiedere agli studenti di mostrare il loro lavoro. Gli errori non sono un problema, anzi non esistono, perché se esistesse l'errore esisterebbe anche la perfezione ed insieme il paternalismo degli insegnanti che dovrebbero correggere. Tutto abolito. Un modo semplice per eliminare la cultura della supremazia bianca, secondo le guide, è abolire l'ordine in classe. Non far alzare le mani agli studenti per mostrare di conoscere le risposte e spiegare la matematica attraverso narrazioni che includano danza, musica, canzoni e altri modi culturali di comunicazione. L'approccio antirazzista all'educazione matematica potrebbe includere uno o tutti i suggerimenti suggeriti dal sito web per insegnanti dell'intero percorso scolastico americano, dai 5 ai 17 anni. La discussione della conoscenza matematica delle antiche civiltà al di fuori dell'Europa e dei contributi non europei alla conoscenza e alla scoperta della matematica. Levitare gli stereotipi razziali quando si formano e si comunicano le aspettative sui risultati degli alunni in matematica. Levitare stereotipi razziali o pregiudizi culturali nei materiali di classe, nei libri di testo, negli argomenti dei compiti e nelle domande d'esame. L'insegnamento matematico antirazzista non insegna innanzitutto la matematica, ma vuole correggere gli squilibri sui punteggi dei test e sui risultati degli esami in alcuni gruppi minoritari. A questo gap di conoscenza non si risponde con più lezioni, esercizi o compiti, ma con più generici discorsi di odio contro la cultura matematica occidentale e bianca e col valorizzare ogni possibile strafalcione di calcolo. 2 più 2 uguale 4, come può essere razzista? Il nuovo dogma del politicamente corretto americano, che cancella tutto ciò che ritiene sbagliato, ora impone agli insegnanti di correggere gli squilibri tra bravi e somari. E se molti bambini che appartengono alle minoranze nere ed ispaniche non raggiungono gli standard minimi di profitto in matematica? Ha spiegato Libby Emmons nel gruppo Post Millenials durante un'intervista su Fox News la scorsa settimana. Qui gli standard devono essere cambiati. Tutti più somari, tutti livellati verso il basso. Moltissimi distretti scolastici e dipartimenti statali per l'istruzione negli USA hanno preso provvedimenti sull'onda delle proteste antirazziste dello scorso anno per introdurre in varie forme insegnamenti critici del razzismo nei curricula degli studenti di tutte le scuole. Oregon, California, North Carolina hanno già introdotto nei curricula i nuovi insegnamenti antirazzisti, inclusa la matematica antirazzista. In molti altri stati, per lo più governati dei democratici, si apprestano a farlo dal prossimo settembre. La matematica non può essere un'opinione e la mancanza di lezioni e problemi matematici non aiuteranno nessuno a far fortuna nella vita reale. Il revisionismo matematico, tra l'altro, si scontra con i dati oggettivi delle ricerche sulla bravura degli studenti americani in matematica, i migliori dei quali sono quelli di origine asiatica, non di origine europea. Già, ma cancellando la realtà, tutto vale. Nota di basta bugie Nel seguente video, doppiato in italiano da basta bugie dal titolo La matematica è un'opinione? Si può vedere un interessante cortometraggio che anticipava in maniera clamorosa gli eventi descritti nell'articolo. Sembra distopia, ma è invece tragica realtà. E non parla del futuro, ma del presente. Per vedere il video La matematica è un'opinione? Vai sul canale YouTube di Basta Bugie!